Ben ritrovati su BioBlu, abbiamo in collegamento con noi Mauro Rango, fondatore del gruppo Ippocrate.org, che molti di voi conoscono perché nell'ultimo anno e mezzo ha dato assistenza a migliaia di persone grazie alle terapie domiciliari. Però un paio di giorni fa è arrivata la notizia, un po' forse un fulminacce al sereno, che Ippocrate.org chiude. Mauro, che cosa sta succedendo? Buongiorno, sta succedendo ormai da circa tre mesi che i medici vengono sospesi, la gran parte sono sospesi perché non hanno deciso di vaccinarsi e un'altra parte invece perché hanno espresso delle loro opinioni riguardo al vaccino dato ai bambini per il Covid. Opinioni tra l'altro di nessuna aggressività, nel senso che nelle loro manifestazioni invitavano i genitori a informarsi e a valutare prima di sottoporre il bambino che non sia male in maniera grave di Covid e quindi non va incontro al decesso, di fare inoculare il vaccino Covid. Grazie. Grazie